L'obbligo vaccinale nella scuola traballa. Il governo rinvia il decreto per l'utilizzazione del Green Pass a scuola di una settimana, sembra però essere intenzionato a introdurre l'obbligo vaccinale per il personale scolastico per permettere il rientro in classe in sicurezza. Personalmente sono a favore perché comunque a scuola siamo tanti e anche per quanto possiamo mantenere la mascherina e la distanza in classe, se nei corridoi, nel cortile non è che ci sono controlli e io l'ho vissuta quindi non è che sia molto a norma. Quindi sì, se siamo tutti vaccinati è una cosa più sicura, poi ovviamente prendo quello che viene perché non decido io ovviamente. Sì, sono d'accordo anche perché avendoselo in questo momento sì, sono d'accordo. Ovvio, dopo, cioè alla fine essendo tante persone in tutta la scuola, parlando della mia siamo in più di 2.000 quindi direi che sia più obbligatorio, cioè obbligatorio no, però abbastanza consigliato, quindi sì, è abbastanza d'accordo. Lei quindi si è vaccinato? Sì. Il piano del Ministro Bianchi prevede anche l'utilizzo della mascherina in classe e il distanziamento, d'accordo oppure no? Sì, è d'accordo, alla fine anche essendo pure vaccinati, alla fine serve anche la mascherina. Io penso che sia giusto perché comunque salvaguarda i ragazzi e le famiglie senza che per il vaccino. Io ho fatto la prima dose, devo fare la seconda, quindi sì, sono favorevole. Io sono contrario al Green Pass perché se c'è qualcuno che non vuole vaccinarsi non deve essere obbligato a farlo, però penso che il vaccino è una cosa molto utile per sconfiggere il Covid, però non deve essere un obbligo ecco. Io sono stufato anche di fare la DAD da due anni che la facciamo e ho voglia di rivedere i miei compagni, ecco. Mascherina obbligatoria sì oppure no? Mascherina obbligatoria sono d'accordo. Sono favorevole al Green Pass nelle scuole. Perché? Per essere più sicuri, per poter stare in presenza. I ragazzi dovranno comunque tenere la mascherina e ci dovrà essere il distanziamento, lei su questo è d'accordo? Eh sì, perché comunque per abbattere il Covid non è che passa così in un giorno, quindi fin quando ci saranno i contagi, queste cose qua, sì, secondo me si deve stanere. Secondo me no, non è giusto che uno venga obbligato così, capisco per la sicurezza nelle scuole, ma che sia obbligatorio secondo me non ci sta. Lei il vaccino l'ha fatto oppure no? Io devo farlo, ma a questo punto vedo come va la situazione, se mi incanalano con i Green Pass lo farò, se no, se è possibile non farlo io non lo farei. L'obbligo vero e proprio no, perché non voglio essere, non sono Novax, però obbligare penso che sia una sorta di dittatura, quindi l'obbligo no. Però è bene che ci sia, ma soprattutto per i professori, poi per gli studenti, alla fine quanti anni hanno gli studenti sui 15-16 anni, quindi ancora, non lo so, non è che le obbligherei a loro. Mascherine obbligatorie invece sì oppure no? No, le mascherine sì, assolutamente sì. Grazie. Grazie. Grazie.